oh super gonna faici vedere dai fai ti lascio stare dai avanti ti dai fai il bisognino dai che non te li prendo mia no voglio dire fai avanti che ti avanti dai io e te hai una ripresa comandante che gli ha fatto eh ma è timido che cosa hai detto adesso adesso quando vuoi fare passaggio qua sforzi sforzi guarda l'espressione dello skipper di montagna è una nuova specie dello skipper di montagna stacco allora niente il comandante che è avanti da circa un quarto d'ora sembra che abbia fatto lui sappiate sappiate che sul mio consiglio si era accordato il 202 ok quello che state vedendo qui davanti invece è il nostro cristiano superman che in gergo come dire il nostro è peccato che sia traccia di di ciaspole e non di skipperismo oh ah 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 credo proprio di sì almeno credo perché io volevo firmarmi in questo codesto momento non sto via qua a ragionare adesso ma no ci siamo ci siamo scherziamo perché quella curva di era troppo accademica dobbiamo far vedere i raga che l'esperienza questo posto qua da qua dai cavemo se da qua il nome piace mia che tracetti che fa lì che roba è come quando che vedi i fracchi dai dai sono benzi Oh Ah So far ecco l'uomo sulla croce grande ma neanche vero il sega ha messo anche a spagliare la neve stamattina su di cima la marana subiamo dentro scaldarsi gli ossi grande chris grande sì però però penso che venghiamo trovare parecchio a salire bravi non so quanto vuole grazie a tutti bibita fumante il commento dello skipper di montagna ecco per caso non rivemo questo è l'ultimo saluto dai che vi sto registrando stai avanti col peso citrioio bravo dai che vi riprendo su coi buongiorno 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 ci sarà un bamba la vista delle farma in caso di vaglianga Asciamo a rovinare le tracce 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 Grazie a tutti.